La Coppa Italia è una regione, in questo momento, andiamo a venire con noi, oggi, a casa nostra, la Coppa Italia! La Juventus vince la Resma! La Juventus vince la Resma! La Juventus vince la Resma! Una volta strana di rai, una 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 grandissima di riponato! La decima, la decima di riponato, solo su, la decima! Grazie a tutti. Grazie a tutti.